rinnovo Lautaro, Zirche, calciomercato, dove va Zirche, dopo Conte e Napoli, è una parola sull'Atalanta, mi hanno un po' tirato le orecchie, quindi diamo giustamente a Cesare qualche di Cesare, detto questo, questo è il canale YouTube Calcio più bello d'Italia d'Europa e del mondo, iscrizione, 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 campanella mi raccomando, iniziamo dalla fine, dall'Atalanta, mi è stato detto beh hai parlato delle cinque grandi, però ti sei dimenticato l'Atalanta, l'Atalanta ormai è una grande, è vero, è vero, sono curioso del calciomercato che farà l'Atalanta, non ho idea, secondo me si rafforzerà, in qualche modo si rafforzerà, perché ormai l'appetito viene mangiando, l'Atalanta in Champions non ci va per fare la seconda linea, l'Atalanta oltretutto deve andarsi a giocare una Supercoppa europea, l'Atalanta deve preparare una gran bella squadra per l'anno prossimo e la struttura ce l'ha, e secondo me sotto 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 sotto, perché no, lo scudetto non è poi così lontano, attenzione, lo scudetto non è poi così lontano, questa squadra gli è fiorita fra le mani, praticamente è una pianta che tu compri e a un certo punto, ops, questa pianta comincia a essere piena di fiori, bella, è questa qua, questa qua è l'Atalanta, vedremo l'anno prossimo, quindi seguiremo, seguiremo assolutamente il calciomercato dell'Atalanta così come di tutte le altre squadre. Ritornando ai tre pezzi principali, ma andiamo all'indietro, Conte al Napoli. Sono curioso, sono curioso, leggo che effettivamente ci vuole un restyling, l'hanno capito, al Napoli finalmente che ci vuole un restyling, bisogna dimenticare lo scudetto vinto. era lo scudetto di Lorenzo, di Varaschelia, di Osimen, di Kim, di Spalletti, di Giuntoli, Giuntoli è andato via, Spalletti è andato via, Kim è andato via, Osimen chi lo sa, di Lorenzo si parla di Lorenzo la possibilità, chi vuole andare va, però io penso, capire, ma che squadra gli resta in mano Antonio Conte? Cioè lui ha bisogno di un 3-5-2, e questo 3-5-2 con chi lo fa? Cioè ha il centrocampo che c'ha, Ianghissa, Lobokta, che dopo sono o non sono giocatori da Antonio Conte, Lukaku, arriva Lukaku buono, pene, però deve essere messo a stacchetto, cioè nel senso di allenarsi, 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 perché quando passano gli anni, anche se non è che è proprio, non è che è anziano, può fare molto bene al Napoli Lukaku. Vedremo, sono molto curioso di questa avventura di Antonio Conte al Napoli, è pure vero che Antonio, vabbè, non voglio dire, però Antonio Conte ha avuto la Juventus, ha avuto il Chelsea, ha avuto l'Inter, dopo il Tottenham in Premier League è una grande squadra, chiaramente, adesso il Napoli, non lo so, non lo so, vediamo, deve, ha bisogno anche lui di fare il risultato grosso, ma un risultato grosso grosso, gli mancano le coppe, gli mancano le coppe, uno può dire, va bene, senza coppe fai bene in campionato, sì, però sono curioso, sono davvero curioso di quale può essere l'esperienza e cosa può dare al campionato italiano Antonio Conte, con la sua squadra, vediamo, vedremo, stiamo attenti anche al calciomercato del Napoli, ovviamente, calciomercato Zierke, Zierke a quanto pare piace a tutti, piace a tutti perché si è capito, è un giocatore forte, questo è un giocatore che può essere 9, 9 e mezzo, fa, diciamo, detto il passaggio, l'ultimo passaggio, l'assist, è a piedi buoni, viene dal Bayern Monaco, quindi è già stato visto anche dal Bayern Monaco, non è che dici, va bene, quest'anno solo, ha fatto l'esplua, però no, 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 il giocatore c'è, il giocatore c'è, può andare al Milan, può andare alla Juventus, se va via Lautaro, di cui adesso parliamo, può andare all'Inter, non lo so, non lo so perché la Juventus, se a me sembra che sia la Juventus quello che potrebbe effettivamente avere quel passo in più, essendoci che Seba, Tiago Motta, anche qui, ma che ci aspettano a ufficializzare un po' tutti, cioè di Milan ormai parlano tutti, se è andato al bar dello sport si parla Milan Fonseca, Juventus, Tiago Motta e Napoli Conte, tutti parlano di questo, come se è scontato, ma se è così scontato diamo l'ufficiale, così finiamo, finiamo là e ci facciamo pure il video, perché quando è ufficiale fai il video. Detto questo, circa il Milan di Fonseca, dell'eventuale Milan di Fonseca, o circa l'eventuale Juventus di Motta, beh, mi piacerebbe vederlo alla Juventus, Tiago Motta, è una Juventus che sta crescendo bene secondo me, però anche lì, muoviamoci, muoviamoci, perché io queste cose, delle trattative lunghe, ma il campionato è ancora lungo, ci sono gli europei, ci credo e non ci credo, quando vuoi fare la squadra la fai, l'unica che è giustificata è l'Inter, che è ferma per ovvi motivi, perché c'è questo passaggio da una proprietà all'altra, questo va bene, ma tutte le altre squadre secondo me dovrebbero muoversi, anche perché l'Inter è l'unica che ha fatto gli acquisti quelli forti, Zelischi e Taremi, che non è cosa di poco conto, specialmente Zelischi secondo me, anche Taremi, ma specialmente Zelischi, detto questo, Zirche, dove lo vedete voi? Questa è una domanda che io faccio a voi, secondo voi dove lo vedreste meglio e comunque dove secondo voi andrà a finire? Perché il fatto che fate a finire al Milan, vedete, con tutto il rispetto, però non lo so quanto attrattivo può essere il Milan in questo momento, io non riesco a capire il Milan, non riesco a capirlo al Milan, alla Juve, io mi immagino che c'è giunto lì che parli con il nuovo allenatore che dovrebbe essere Fiacomotta, che stanno là, ma al Milan che sta succedendo? Non lo so, non ho idea, non riesco a immaginarlo. Andiamo all'Otar, finiamo con l'Otar. Ormai il calcio è il calcio dei professionisti, è il calcio dei professionisti, chi è il calciatore è un professionista, è una piccola azienda, quindi è giusto che tu voglia tirare il massimo dal tuo essere professionista, però questo vale anche quando vedo dopo, non parlo più di Lautaro, ma in genere, questi giocatori bacio la maglia, sono il capitano, il mio cuore è per l'Inter, il mio cuore è per il Milan, il mio cuore è per la Juve, il mio cuore è per questo. Non ditele queste cose, perché non è più quel calcio lì, quel calcio lì è del calcio dei Maldini, dei Totti, andando indietro dei Rivera, dei Mazzola, di questi, di questi, diciamo, di quel calcio lì, perché quei, secondo me, quei giocatori che erano grandi oggi sarebbero anche loro, cioè il calcio cambia, la vita cambia, la storia cambia, va bene, ci sta, a me se l'Otar va via, io, ma chi se ne frega, a me me ne frega niente, posso solo andare a pensare se va bene o non bene per l'Inter, io l'ho sempre detto, io tifo la maglia, la storia della mia squadra, ma mai le persone, né gli allenatori e neanche i giocatori, perché so che possono cambiare, so che è liquido ormai, la società è liquida la società, figuratevi la società del calcio, cioè nel senso il mondo del calcio è ancora più liquido, cioè vai dall'una e dall'altra parte, non le bandiere, queste cose qua, perché adesso, anche se l'Otar resta, beh, e ripeto, ha tutto il diritto di chiedere anche 20 milioni, 18 milioni, 16 milioni, è il mercato, e quindi ha diritto una persona, un libero professionista, di fare le sue richieste, assolutamente, io su quello non è un problema, se domani l'Otar va al Milan e io sono a San Siro, io non lo fischio, non lo fischio, io non capisco anche i milanisti che fischiano Donnarumma, che fischiano Giannogolo, ma non è più quel mondo lì, c'è il mondo, adesso è diverso, se un giocatore se ne va, ciao, non tifo per te, tifo per l'altro giocatore che ha la maglia dell'Inter, perché tifo la squadra, voglio che vinca la squadra, a me mi interessa zero di quello che fa il giocatore, adesso venderlo, perché il discorso qual è? Le possibilità sono, gli scenari sono abbastanza stretti, uno, lui firma, vabbè scordammo il suo passato, facciamo finta di niente e si va avanti, firma, quanto milioni, milioni, non lo so, firma, l'altro, viene venduto, per essere venduto però l'Inter vuole almeno, apparecchierà almeno, almeno 100 o 90 milioni, io non sono di quelli 130, 140, no, 90, 100 milioni, te li prendi e ti fa il mercato, va bene, ciao, buona fortuna, ci siamo visti, questo è quello, l'altro, che è il peggiore, il peggiore, che lui rimanga con lo stesso contratto che ha adesso, aspettando i due anni per andarsene, ma vedete, là lui perderebbe un sacco, perché se io ti do i 10 milioni e tu ne guadagni 6, tu perdi 4 milioni all'anno praticamente, di quello che sarebbe stato il contratto, quindi vale a riprendere queste, dopo, chi lo sa, che condizione atletica avrai fra due anni, se sarai ancora così forte, rimanere, dopo io, la fascia di capitano, rimane a luce, tutte cose, tutte cose una dietro l'altra che non mi piacerebbe, a questo punto o rimane, rinnova, trovano una quadra e facciamo finta di niente, oppure se devo andare va, questa è la mia idea sull'autaro, ma sarà la mia idea su tutti, perché il calcio, ripeto, il calcio è una cosa che è cambiata, assolutamente cambiata e bisogna pensarci, bisogna riflettere su questo mondo qua, infatti io mi diverto facendo i post partita, parlando di calcio, parlando anche dei personaggi, ci divertiamo su questo canale, ci divertiamo, non facciamo nient'altro che è un par dello sport e parliamo di queste cose qua, però parliamo dell'Inter, quando non vedo l'olio, a me piace il calcio giocato per questo, perché il calcio non giocato mi annoia, a me piace parlare dell'aspetto tecnico-tattico, del bel gol, del bel tiro, delle cose che succedono in campo, divertenti, questo è il calcio che mi diverte, quando il calcio si parla di soldi, plus valenze, bilanci, mi annoio un po', mi annoio un po', però adesso c'è il calciomercato, vediamo. Quindi Zirke, secondo voi dove va? La vostra idea sull'autaro, l'Atalanta, come secondo voi, cosa potrà fare e qual'era il Napoli di Conte? Eh, quante cose, quante cose che stanno arrivando. Detto questo, alla prossima, questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia e d'Europa e del mondo, mi raccomando, iscrizione a tutti, ciao ciao.